Con i ristoranti che hanno dovuto limitare l'attività in zona arancione e con tutte le difficoltà legate all'emergenza Covid, una delle produzioni tipiche del nostro territorio è diventata un vero e proprio caso. Stiamo parlando del broccolo di Bassano, produzione da record ma difficoltà nel piazzarlo sul mercato. Diciamo che innanzitutto il broccolo è un prodotto esclusivo della zona di Bassano che in questi ultimi anni è stato molto valorizzato soprattutto dalla ristorazione per cui è dato un'opportunità economica anche ai piccoli produttori. In questo momento si trovano in difficoltà nel posizionare, tanto è vero che tramite la cooperativa si sta posizionando il prodotto in giro per il Veneto, per altri mercati appunto per dare la possibilità di sbocco. Da un lato può essere un'opportunità di far conoscere il prodotto in giro per il Veneto. A livello di produzione quest'anno come stanno andando le cose? Ma visto la stagione sta andando bene, sta uscendo un ottimo prodotto e anche con grandi produzioni. La difficoltà di piazzare il prodotto potrà poi andare a incidere sul prezzo di vendita con un abbassamento dei costi magari? Ma generalmente è questo che succede, quando c'è un prodotto che non si esse posizionare, per posizionarlo bisogna diminuire il prezzo. Io mi auguro che invece riuscendo a distribuirlo in giro per tutto il territorio Veneto si riesca a dare la giusta soddisfazione agli agricoltori.